Allora, oggi siamo qui per ascoltare Piero Bienucci, che è un giornalista scientifico con grandissima esperienza, ha scritto diversi libri di diffusione della scienza fin dagli anni 70, ha diretto la collana Tutto Scienze per la stampa per tantissimi anni, fa anche dei master di comunicazione della scienza all'Università di Torino, all'Università di Padova e collabora alle Stelle, una delle numerose riviste di divulgazione dell'astronomia che abbiamo in Italia e oggi ci parlerà di un tema molto nebuloso, perché l'ignoto nello spazio e nel tempo è tutto ciò che non sappiamo, quindi è un tema abbastanza impegnativo. Spero che sia sufficientemente affascinante e vi faccio buon ascolto. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. So che siete un pubblico coatto, quindi la sfida non è stata portarvi qui, vi hanno portati, quindi il problema è risolto. Il problema è tenervi qui, quindi è questo che io cercherò di fare. Innanzitutto grazie a Roberto Nesci, che è un astrofisico, come certamente molti sapranno in questa sala, e davanti al quale è molto imbarazzante parlare di un tema che in qualche modo è astrofisica, cosmologia. Di fatti cercherò di usare questo tema soltanto come l'esempio, un caso di studio di un discorso più generale. Ora, noi sappiamo che il bellissimo tema che è stato escogitato quest'anno per la quarta festa Scienze e Filosofia è umano, sensibile, ignoto. Io sono qui per la parola che è sottolineata, per la parola ignoto. Naturalmente nell'ignoto è incluso l'umano ed è incluso il sensibile, però è quella la parola sulla quale io vorrei fare qualche riflessione insieme con voi. Anzi, più che ignoto, l'ignoranza, della quale mi sento professore. Quindi di questo mi sento perfettamente tranquillo e preparato. Vi posso parlare di ignoranza perché di questa ne ho in quantità. Non mi vergogno di essere ignorante e io vorrei che tutti noi uscissimo di qui convinti che l'ignoto è la cosa più importante che ci sia, più del noto, e l'ignoranza quindi è la religione dell'ignoto. Io vi vorrei tutti fedeli della religione e dell'ignoranza, ma in un senso che sto per dirvi. Vi presento il professor Stuart Feierstein, che credo voglia dire pietra focaia, quindi qualcosa che accende qualcos'altro con uno sfregamento o con un urto. Questo professore insegna la Columbia University. Ho imparato a dire Columbia dal professor Giancarlo Vic, che mi dice che c'è una lunga discussione nella storia della fisica italiana su come si pronunci. Sapete che Enrico Fermi insegnava in questa università. Bene, lui è un biologo, ma tiene un corso universitario di ignoranza. È una disciplina universitaria l'ignoranza in questa Columbia University. E quindi se c'è un corso di ignoranza, a buon motivo ci sarà. L'ignoranza però deve essere definita, dobbiamo capire che cosa intendiamo per ignoranza in questo caso, perché è facile fare dell'ironia. Cioè, per esempio, come si diventa professori di ignoranza? Dimostrando di essere ignoranti, presentando delle pessime pubblicazioni, non presentandone affatto. Possono concorrere soltanto dei precari sfigati, come qualcuno ha detto una volta, parlando dei giovani che sono inseriti nell'università italiana. E chi diventa professore di ignoranza può tenere la cattedra a vita o rischia di perderla se pubblica qualcosa di intelligente, di interessante. Cioè, si può fare tutta una problematica, no? È un'eventualità che può succedere di fare una buona pubblicazione, allora in quel caso si perde la cattedra. E come si dà l'esame? Passa con il 30 e lode chi dimostra di essere il più ignorante di tutti? Oppure chi ha imparato qualche cosa sull'ignoranza, naturalmente? Ecco, però in realtà adesso, scherzi a parte, partiamo da una citazione seria di casa nostra. Questa citazione di Galilei l'ha trovata sempre bellissima. Il compito della scienza non è aprire una porta all'infinito sapere, ma porre una barriera all'infinita ignoranza. Questa è ancora però una concezione dell'ignoranza che io vorrei lasciarmi alle spalle. È una bellissima citazione, come punto di partenza dobbiamo superarla, anche perché è passato un po' di tempo da Galileo. Allora, io vorrei proporvi l'immagine del sapere di ciò che sappiamo come un'isola. E qui è una bellissima isola, credo, della Polinesia o della Micronesia, da quelle parti lì in mezzo all'Oceano Pacifico. C'è ancora qualche pezzo di Oceano Pacifico che non è fatto di plastica, anche se, come sapete, c'è una grande isola, quasi un continente di plastica. Però, insomma, c'è anche ancora del mare azzurro con in mezzo delle isolette verdi. Allora, se questa isola è il sapere, voi dovete immaginare che quest'isola continuamente si espanda, cresca, un po' come l'universo, e cresce in modo accelerato, un po' come l'universo che ci descriveva Burrow ieri sera, in quella bellissima conferenza che credo molti di voi abbiano potuto ascoltare. Io l'ho potuto ascoltare, non in questa sala che era gremita, ma nell'altra. Allora, se voi pensate che il sapere cresce, e cresce rapidamente, cresce addirittura in modo esponenziale, noi sappiamo, se consideriamo il numero delle pubblicazioni, e se pensate che l'oceano intorno è l'ignoto, quindi ciò che ignoriamo, è vero che il sapere cresce, ma parallelamente cresce il perimetro dell'isola, e quindi il confine con ciò che non conosciamo, il confine con l'ignoto. Quindi immediatamente sono correlati conoscenza e non conoscenza, conoscenza e ignoranza. Questo è il primo punto di partenza che ci deve far ritenere importante quella linea di confine che è la spiaggia. La scienza importante si fa sulla spiaggia, sul confine tra ciò che sappiamo e ciò che ancora non sappiamo. Ma non è ancora questo il concetto di ignoranza su cui io volevo richiamare la vostra attenzione. Noi possiamo pensare, stando in quell'isola, che l'oceano appunto è l'ignoto, e questo è il sapere di non sapere, è quello di cui parlava Socrate. Socrate ci diceva, ed aveva ragione, che la vera sapienza è sapere di non sapere, cioè conoscere i limiti della propria conoscenza. Tutti voi avete, credo, studiato un po' di filosofia, di Socrate avrete sentito parlare, non so se qui ho prevalentemente istituti tecnici, allora forse un po' meno, ma licei classici, licei scientifici, quindi sicuramente qualcuno ne avrà sentito parlare di Socrate. Sapere di non sapere. È un superamento, quello che vi propongo, del sapere di non sapere. Perché vedete, se uno sta su quell'isola, che è il sapere, che cresce, e guarda l'oceano, quello è quello che non sa. Ed è immenso. Ma ci potrebbe essere qualche cosa, al di là di quell'oceano, che non solo non sa, ma non sa di non sapere. Questa è, guardate, è una meta-ignoranza, cioè un'ignoranza di secondo livello, non so se rendo l'idea. Se non sono chiaro, fatemi degli sguardi fulminanti, e se non casco secco, prova a rispondere, a chiarire, sotto il vostro guardo è più facile che caschi secco. Cioè, non so se rendo l'idea. Per capirci, rimaniamo nella metafora, sono nell'isola del sapere, sono andato sulla spiaggia, che è il confine dove si fa la scienza, dove c'è la conoscenza in crescita. Guardo l'oceano e quello è quello di cui parlava Socrate, il non sapere, di cui io devo essere consapevole. Io sono consapevole dell'oceano. Ma se sono consapevole dell'oceano, non è sufficiente. Potrebbe, molto lontano, al di là dell'orizzonte possibile, io vedo soltanto acqua intorno a me, in questo oceano, potrebbero esserci dei continenti di cui io ignoro l'esistenza. Quindi sono l'ignoto immerso nell'ignorato. Non so se rendo l'idea. Questa è la meta-ignoranza di cui vi parlo. E adesso vi propongo un rovesciamento del punto di vista. Questa meta-ignoranza in realtà è una meta-conoscenza. Cioè è la consapevolezza che si può scoprire qualche cosa al di là dello sperato e dell'ipotizzabile. Guardate, questo è un grado di libertà straordinario nella mente dell'uomo che dobbiamo conquistare. Ed è un trampolino straordinario verso la conoscenza. E' quello che cerco di fare questa mattina con voi, questo ragionamento. Quello che adesso vi dirò, e ve lo dirò molto rapidamente, è un esempio. E l'ho scelto dalle cose che più o meno io ho frequentato nella mia lunga vita di divulgatore scientifico. Cioè ho divulgato un po' tutto, purtroppo, e quindi malamente, di sicuro. Però di una cosa mi sono un poco più occupato, ed è l'astronomia, l'astrofisica. E' appena uscita un'edizione economica della storia sentimentale dell'astronomia, che ho pubblicato da Longanesi, un anno fa adesso è uscita un'edizione economica, e quindi qualche riferimento mi viene di lì. E vi faccio allora la storia dell'ignoranza, dell'ignoto dell'ignoranza, nella cosmologia, nell'astrofisica, in quella che adesso si chiama anche la fisica astroparticellare. Allora, andiamo avanti. Io volevo però darvi bene questi concetti di ignoranza, di meta-ignoranza, che in realtà è una meta-conoscenza, e poi ci torneremo alla fine come conclusione. e volevo dirvi però che su quella spiaggia è molto importante che si incontrino discipline diverse. Vedete, la scienza contemporanea è una scienza di grandissima specializzazione. Voi ne avete la percezione in questa straordinaria festa che si fa a Foligno. Avete menti diverse che conoscono la biologia, che conoscono la fisica. Molte volte le menti che vengono a Foligno sono menti interdisciplinari, che sanno quanto è importante il colloquio con le altre discipline, ma molto spesso, se voi andate nei laboratori, trovate dei ricercatori estremamente specializzati che al di fuori, non della loro disciplina, ma del sottosettore della loro disciplina, non si muovono, non hanno nemmeno conoscenza di quello che c'è nel campo accanto, nella porta accanto del loro laboratorio. Ed è necessario, è quasi inevitabile che sia così, perché la scienza attuale è talmente approfondita che non permette dilettantismi. Però il messaggio che vorrei lasciarvi è che bisogna recuperare un margine di dilettantismo, bisogna recuperare un margine di sovrapposizione tra la nostra disciplina e le altre discipline. Guardate, io sono colpevole dell'introduzione in Italia di molti divulgatori. Uno di questi è Pier Giorgio Di Freddi, un altro è Mario Tozzi. Tutti hanno cominciato con me, il primo articolo l'hanno scritto per me, per Tutto Scienza. Uno è Luca Mercalli e uno è Tullio Regge, il più illustre di tutti, un fisico teorico molto noto, molto famoso, adesso molto anziano, l'ideatore dei famosi poli di legge, di Regge, il primo che abbia provato a elaborare una elementare, per allora però pionieristica, teoria della gravità quantistica, una teoria della gravità quantistica in due dimensioni. Bene, Tullio Regge tornò in Italia nel 1979, lui stava a Princeton, l'istituto di Princeton, quello di Einstein. Tornò in Italia un po' per una sua malattia, per fortuna molto lenta, che però nel frattempo è andata avanti. Tornò in Italia perché a un certo punto uno sente, mantenendo tutti i legami ovviamente con gli Stati Uniti, con il mondo intero come ricercatore, però ogni tanto uno sente il bisogno anche di ritornare a casa. Ci ritornò e io gli proposi di scrivere di fisica sul giornale per il quale allora lavoravo, che non era la stampa. E lui accettò. E fu praticamente un'eccezione, allora erano pochissimi gli scienziati che scrivevano sui giornali. Voi ne avete uno che è molto legato alla vostra terra, Paolo Maffei, grandissimo astronomo. Questo faceva, scriveva anche per i giornali. Bene, Tullio Regge ebbe il coraggio all'inizio degli anni Ottanta, sui primi numeri di questo settimanale tutto scienze della stampa, che mi è capitato la fortuna di poter fondare, di condurre per 25 anni, fino a 5-6 anni fa. Questo supplemento ha ospitato una serie di articoli di Tullio Regge, non di fisica, ma di biologia, e in particolare di genetica. Ora, se c'era una cosa lontana dalle conoscenze di Regge, era questa. Se c'era un luogo rischioso, per lui era la biologia, era la genetica, perché non le possedeva, dal punto di vista di una formazione istituzionale. Era un grande dilettante di queste cose, e soprattutto era un uomo curioso. C'è stato bisogno di un fisico per divulgare queste cose. E aggiungerei una cosa, perché la biologia potesse fare grandissimi avanzamenti come ha fatto tra gli anni Cinquanta e Settanta, c'era bisogno di fisici, sono stati dei fisici a entrare in biologia, a cambiare la biologia. Questo non dobbiamo dimenticarcelo. Va bene. Ecco, questo per dire che la spiaggia è il luogo più importante dove l'ingegnere può parlare con il biologo, il biologo può parlare con il matematico, il matematico può parlare con il fisico, e così via. Veniamo all'esempio che vi volevo fare. Noi parleremo dell'ignoto, in particolare nello spazio e nel tempo. Lo consideriamo un caso esemplare. Questa è un'immagine che avete visto anche ieri, che ha portato Burrow, e l'immagine della radiazione cosmica di fondo, quello che viene chiamato da noi giornalistacci, l'eco del Big Bang, che è una espressione bieca, ma che però rende l'idea, è quello che c'era circa 300 mila anni, 370 mila anni, adesso la cosa è stata precisata, dopo il Big Bang. E ci sono queste piccole differenze che vanno da rosa all'azzurro, e ieri vi è stato spiegato molto bene da Burrow, che sono differenze di temperatura, e sono differenze molto piccole, dell'ordine di una parte su 100 mila, piccolissime disuguaglianze in una piatta uniformità. E oggi noi conosciamo bene la ricetta dell'universo, ce l'ha data sempre Don Barrow ieri, così ho potuto fare il mio ripasso, tra l'altro ascoltandolo. Beh, il 4%, noi conosciamo quella parte che lui chiamava luminescente, la traduttore chiamava luminescente, la parte luminosa dell'universo è circa, diciamo, astento il 5%, ma poi dobbiamo distinguere perché le stelle sono solo lo 0,6 dei pianeti, poi c'è del gas intergalattico, gas dentro le galassie, insomma alla fine quello che conosciamo è il 5%. Poi ci sono dei neutrini, particelle molto difficilmente afferrabili, e poi c'è un 23% di materia scura, io la chiamo scura, e anche quell'energia oscura vorrei correggerlo in scura, solo che ormai l'espressione è entrata, perché oscuro è ancora una cosa diversa, è oscuro quello che non è illuminato, questa scura invece vuol dire che è proprio una cosa sostanzialmente scura per i nostri sensi. E vedete che il più è nell'ignoto, cioè il noto è il 5%, l'ignoto è il 95% sostanzialmente, anche se ci sono delle ipotesi come ci diceva Don Barrow. E questo 95% non so dirvi se è l'ignoto o l'ignoto dentro l'ignorato, oppure nessuna di queste cose che è il sospetto che vi insinuerò con l'ultima slide. Allora, pensiamo per esempio alla misura dell'universo, per Anassimandro la distanza Terra-Sole era pari a 54 raggi terrestri e meno della distanza della Luna, in realtà la distanza Terra-Sole è circa 400 volte quella della Terra-Luna, quindi tutto era molto sottostimato, l'universo è stato sottostimato moltissimo, forse lo sottostimiamo ancora, però qui avete un'idea di quanto è cresciuto per Dante l'universo dalla Terra al Paradiso la distanza era di 20.000 raggi terrestri che è tantissimo, forse l'inferno è più vicino, per Kepler erano 3.500 raggi terrestri, Huygens ci avviciniamo 24.000 per Bessel l'universo è 100.000 anni luce, oggi parliamo di 30 miliardi di anni luce se consideriamo la massima distanza a cui arriviamo a 13,7 miliardi di anni luce e tutta la storia della cosmologia si muove tra questi due poli l'universo è chiuso è finito oppure l'universo è aperto è infinito questo è un grande storico della scienza Alexander Coire che alcuni di voi sicuramente conoscono è un po' datato ce ne sono di più moderni però io continuo a leggere i suoi libri perché sono solidissimi e lui appunto fa una storia della cosmologia come oscillazione tra questi due poli e noi adesso scorriamo rapidissimamente questa oscillazione ricordando però una cosa che credo parlando degli studenti e forse a qualche docente è importante ricordare cioè che noi abbiamo avuto fino a non molti anni fa una nozione della storia della scienza molto distorta nella quale sostanzialmente le idee corrette dell'eliocentrismo quindi che la terra non fosse al centro dell'universo nate nell'antica Grecia in realtà poi sono tramontate nell'oscurità del Medioevo si sono perdute e riemergono soltanto con Copernico con Copernico Cheplero Galileo e poi Newton arriva e sistema tutto beh non è così di Lucio Russo che insegna all'Università alla Sapienza di Roma magari Roberto Nesci lo conosce perché è professore alla Sapienza di Roma e quindi magari ha interagito anche se trattasi non di un astrofisico in questo caso Lucio Russo ha scritto tutta una serie di libri in cui ha fatto vedere che sottotraccia in realtà le nozioni di eliocentrismo di atomismo tutte le concezioni anche che possiamo considerare tra virgolette moderne della scienza in realtà sono sempre sopravvissute hanno attraversato tutto il Medioevo soltanto noi abbiamo avuto una tradizione chiamiamola cristiano-cattolica che le ha in parte oscurate non completamente perché abbiamo avuto illustri cristiani cattolici che poi hanno avuto anche qualche fastidio ma hanno sostenuto in realtà Galileo era uno straordinario credente non dimentichiamolo ora Lucio Russo ha riportato alla luce tutto ciò e ha dimostrato che eliocentrismo ed atomismo non sono stati totalmente oscurati hanno sempre avuto una presenza però possiamo dividere grosso modo questo arco di tempo che va dal quinto secolo avanti Cristo fino alla modernità fino a Galileo e a Newton possiamo dividere questo lungo periodo tra cosmologi sconfitti e cosmologi vincenti tra gli sconfitti mettiamo Taleite mettiamo Anassimandro teorico dell'Apeiron l'infinito troviamo Filolao di Crotone tutti questi consideravano l'universo infinito naturalmente sulla base più di intuizioni che non di dati scientifici oggi noi abbiamo dei dati scientifici e Ipazia che fu una martire della scienza adesso è tornata molto di moda Ipazia come sapete c'è stato un film due romanzi ed è l'unica persona che nel famoso affresco la scuola di Atene è l'unica persona che guarda in faccia lo spettatore cioè il visitatore tutti gli altri hanno lo sguardo volto altrove o parlano tra di loro Ipazia ti fissa tu puoi camminare davanti alla scuola di Atene e scoprirai che gli occhi di Ipazia ti seguono Beh Democrito per esempio è un po' ambiguo perché lui è contro l'infinito per quel che riguarda il dividere infinitamente la materia e questa è la più grande scoperta se volete dell'antichità cioè che la materia l'universo è granulare non è qualcosa di continuo ma è qualcosa di discontinuo il suo ragionamento è molto semplice lui dice se prendessimo un pezzo di materia potessimo dividerlo all'infinito se lo dividiamo all'infinito arriveremo a delle oggetti di dimensione infinitamente piccola ma allora questi sono i punti ma se i punti non hanno dimensioni possiamo metterli insieme quanti vogliamo e non otterremo mai un volume quindi la materia non può essere infinitamente divisibile quindi deve esserci un oggetto finale che non è più divisibile che è A-tomo A-alfa privativo tomo tagliare da tagliare e quindi è contro l'infinito è per un universo granulare ricordatevi la parola granulare perché ritornerà anche a proposito del tempo e però questi atomi sono in numero infinito e possono combinarsi in infinite maniere quindi Democrito tiene il piede se volete in due staffe perché appunto il numero degli atomi è infinito poi ci sono i cosmologi vincenti Aristotele Iparco Etonomeo per tutti questi l'universo è finito nello spazio e probabilmente anche nel tempo è anche molto piccolo come avete visto è un universo molto piccolo la tradizione però per esempio in Zenone di Elea è molto più complessa adesso non possiamo entrare in questo ma Archimede ha avuto per esempio la grande intuizione di provare a calcolare quanti granelli di sabbia ci starebbero dentro l'universo intero come allora era conosciuto ed è un numero di 10 elevato alla 10 e alla 17 guarda un matematico perché lui ha un'idea di quanto è grande è una cosa spaventosa al di là della concezione che noi possiamo possiamo averne e torneremo su un numero però molto più grande di questo alla fine molto più grande l'universo di Tolomeo è chiuso l'universo di Dante è chiuso molto strano adesso è di moda un'interpretazione di Dante in cui si applicano delle idee dello spazio quadridimensionale per cui ma qui non entro nei pari perché questo ci porterebbe molto lontano comunque sarebbe un'ipersfera quella che contiene l'universo di Dante non è il caso di entrarci qui Niccolò Chiusano mi è molto caro perché parlava della dotta ignoranza che se volete è un po' quella meta ignoranza di cui accennavo prima il primo a concepire davvero il primo moderno quasi moderna a concepire l'universo come qualcosa di infinito non c'è più in Digis in questo scienziato inglese non c'è più la sfera delle stelle fisse che racchiude tutto l'universo poi naturalmente la prima domanda che avrebbe da fare dice che cosa c'è al di là ecco Digis dice c'è l'infinito ci sono infinite stelle e mentre tutte le stelle di Ptolemeo erano alla stessa distanza incastonate in questa sfera di cristallo per Digis come vedete in questo disegno che è rivoluzionario perché cambia la visione dell'universo nel 1576 questo universo di Digis è un universo infinito dove ci sono infinite stelle fino a infinita distanza Copernico è ancora dentro un universo sostanzialmente chiuso più moderno perché è eliocentrico ma chiuso l'infinito era qualche cosa di molto pericolosa era una cattiva compagnia che porta Giordano Bruno a rogo e perché questo? beh perché c'è una cosa sola che può essere infinita per uno spirito religioso ed è Dio tutto il resto non è infinito se no competerebbe con Dio e allora un universo infinito crea qualche problema teologico ammettere che ci sia un'infinità nello spazio e nel tempo allora dove collochiamo Dio? Tico Brahe un universo chiuso attiro l'attenzione su quel naso di Tico Brahe era un naso finto un precursore della chirurgia estetica all'età di 20 anni sfida in duello un altro giovanotto con il quale aveva avuto una questione forse non sentimentale ma un litigio su un oroscopo e in questo duello perde tre quarti del naso che lui si ricostruì in rame in una lega di rame e oro e poi tutta la vita la passò a inventare delle pomate per tenerlo attaccato perché non stava su va beh questo è il sistema di Tico Brahe come vedete è un compromesso un compromesso più che storico tra l'eliocentrismo e il geocentrismo per Keplero l'universo è finito Keplero è molto moderno ma ieri sera ci ricordava Giulio Giorello il coraggio con cui Keplero introduce le orbite ellittiche per Galilei è ancora più complicata la cosa perché lui è sostanzialmente ancora per un universo finito però guardando col telescopio vede delle stelle che a occhio nudo non si vedono e quindi comincia a sospettare l'infinità dell'universo qui ho messo il disegno che ha fatto delle stelline che si vedono nella nebulosa di Orione per Newton per Newton l'universo è infinito perché scoperta la legge di gravitazione universale perché tutto questo universo stia subito e che tutte le stelle siano a distanze regolari tra di loro distribuite uniformemente e distribuite all'infinito se no l'universo collasserebbe ma lui ha sentito molto profondamente lui che era uno spirito religioso Newton ha fatto lo scienziato per pochi anni nella sua vita principalmente ha fatto il teologo l'alchimista l'alchimista e non c'era la chimica ancora allora ha perso tutti i capelli respirando vapori di mercurio per questo metteva anche la parrucca non solo perché era di moda ma perché questo copriva la sua calvizie dovuta alla pratica l'alchimiche e ha fatto il direttore della Zecca di Londra ha inventato la zigrinatura intorno alle monete che abbiamo ancora noi adesso perché allora le monete essendo d'oro e d'argento la gente le limava e poi vendeva la limatura quindi Newton ha avuto anche questa mentalità pratica di risolvere questo problema bene per Newton l'universo era infinito ma questo gli creava dei problemi non piccoli dal punto di vista teologico per il motivo che vi dicevo prima che solo una entità può essere davvero infinita ed è Dio beh per Herschel che scandaglia l'universo l'universo si allarga era possiamo considerare lui non si pone il problema Herschel era un bravissimo musicista come sapete un compositore un musicista uno suonava l'orgono in modo meraviglioso il suo primo mestiere era era l'essere musicista il secondo è stato essere astroma ha scoperto Urano nel 1781 ha fatto la prima mappa della galassia però lui non si poneva finito o infinito come problema si poneva il problema illimitato e fin dove arrivo col mio telescopio era molto pratico da questo punto di vista lo stesso Lord Ross che si è costruito questo popò di telescopio che era chiamato il Leviatano mi ho soprannominato il Leviatano scusate sto andando indietro anziché avanti adesso proviamo a recuperare ecco nel 1900 ritorna la parola granulare abbiamo visto che con Democrito la materia è granulare cioè fatta di particelle che chiamiamo atomi oggi più precisamente dovremmo dire i veri granuli di base sono i quark e gli elettroni la materia è granulare ma nel 1900 succede qualcosa di nuovo rivoluzionario come al tempo di Democrito l'ha ricordato ieri sera Giorello tra l'altro anche l'energia è granulare cioè esistono degli intervalli nei quali non possiamo avere radiazione elettromagnetica quantità di energia di energia elettromagnetica le quantità sono quantizzate non so non riesco a trovare un altro modo di non ripetere la parola cioè esistono dei livelli diciamo energetici intorno all'atomo che sono tali e non ci sono vie di mezzo quindi anche la materia è granulare scusate se l'ho detto in modo confuso ma qui lo vedete con la sua seconda moglie Planck ormai un po' tardi un po' in età avanzata ma la sua idea è del 1900 Einstein ha confermato la granularità dell'energia e oggi noi l'abbiamo una dimostrazione continua perché i pannelli fotovoltaici funzionano perché l'energia è granulare se volete tutte le macchine tipo il laser che legge i vostri cd e i vostri dvd il led eccetera sono tutte delle applicazioni della granularità della radiazione elettromagnetica quanto all'universo c'è un grande dibattito nel 1920 Shapley crede che ritiene che sia soltanto la nostra galassia l'universo finisca lì Curtis invece pensa che ci siano moltissime galassie e la cosa viene poi risolta da Hubble Einstein con la relatività generale ma non possiamo metterla nei particolari comincia a curvare lo spazio anzi comincia a dirci che è la materia a dire allo spazio che forma deve prendere lì vedete Einstein vicino al telescopio l'unico telescopio che lui ha posseduto gli è stato regalato da astrofili era un telescopio da 20 centimetri l'universo a questo punto curvato dalla materia come dice la relatività generale può essere curvato in modo tale da dare un universo finito la sfera che vedete in alto può essere un universo a sella parabolico che invece può essere infinito il primo è finito è illimitato gli altri sono infiniti l'altro è piatto ed è quello che ieri sera ci diceva è il più vicino al nostro è probabilmente un universo quasi piatto come ci diceva Barrow ieri sera Hubble e Lemaitre mettono le basi nella teoria del Big Bang e questa è la diapositiva più brutta diciamo dal punto di vista dell'immagine ma la più bella la più straordinaria perché comprende tutto quello che esiste dal proton dal quark all'universo intero sta tutto dentro questo diagramma che come vedete è esponenziale logaritmico e tutti gli oggetti che noi conosciamo sono lì in mezzo sono in questa cosa e lì in mezzo ci sono i viventi e cioè quel rettangolo comprende dalla molecola di DNA all'uomo agli alberi che sono le creature più grandi l'ultimo pallino in alto è tutto l'universo visibile da un lato avete la massa in grammi la massa completa dell'universo è un po' più di 10 alla 50 grammi le dimensioni il diametro dell'universo è un po' più di 10 alla 26 metri e naturalmente il quark è 10 alla meno 15 metri ecco così avete gli ordini di grandezza è molto importante a scuola formarsi una chiara idea degli ordini di grandezza guardate io ho recensito per la stampa l'articolo è uscito sabato scorso il libro di Carlo Rovelli insigne fisico teorico autore di un libro che è anche qui e che è intitolato la realtà non è come appare è arrivato verso la fine del libro sono ancora uno di quelli che leggono tutto il libro pagina per pagina riga per riga ci sono due pagine interi in cui Carlo Rovelli illustre fisico spiegando la propria teoria della gravità quantistica a loop che è una teoria minoritaria ma comunque importante dice che gli ordini di grandezza che vanno dalla lunghezza di Planck alle dimensioni dell'universo sono 120 purtroppo sono 10 sono soltanto 61 allora che un fisico teorico illustre non abbia l'idea concreta che invece gli sperimentali hanno di quanto è l'universo e abbia un errore di tanti ordini di grandezza mi preoccupa leggermente va bene Gutt Gutt come forse bisognerebbe dire ha teorizzato l'inflazione non mi soffermo è una fase primordiale dell'universo arriviamo rapidamente alla fine perché è molto tardi in questo universo finalmente Zwicky che è questo antipaticissimo astrofisico di origine svizzera trasmigrato di origine credo ungherese svizzero di nazionalità trasmigrato negli Stati Uniti considerato antipaticissimo da tutti molto uno dei suoi insulti era sei un imbecille sferico che è difficile da capire perché richiede un minimo di conoscenza della geometria cioè sei un imbecille da qualunque parte ti guardi perché la sfera è un oggetto simmetrico da tutti i punti di vista da cui lo si guardi quindi sei un imbecille delle sferiche era il classico insulto che usava Zwicky e accanto vedete invece Vera Rubin che è una astrofisica più nata parecchi anni dopo Zwicky tuttora vive vegeta e attiva ecco questi sono i due campioni della materia oscura quelli che hanno portato in evidenza il fatto che ci devono essere nell'universo molte cose appunto che sono in certo senso l'ignoto nell'ignorato per rifarci al concetto di prima quindi sono gli scopritori se volete del 25% dell'universo perché la materia oscura è più o meno il 25% dell'universo molto 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 perché tutti gli altri astrofisici precedenti hanno sì e no conosciuto il 5% dell'universo quindi questi da soli hanno fatto grandi cose ma qualche cosa di più è stato fatto dopo di loro nel 1998 anche questo è stato ricordato da Barrow l'altra sera ieri sera ed è stata la scoperta dell'energia oscura che ha accanto un punto interrogativo perché non tutti gli astrofisici sono convinti poi che ci sia davvero che stiamo comprendendo bene il discorso insomma della materia oscura e però su questa materia oscura è stato assegnato un premio Nobel nel 2011 a questi tre signori che sono i tre astrofisici che in parte insieme in parte in modo indipendente analizzando un particolare tipo di supernove cioè di stelle che esplodono mettendo un'enorme quantità di radiazione una supernova può diventare luminosa per qualche giorno quanto una galassia quindi quanto 100 miliardi di stelle ecco studiando queste supernove di un particolare tipo hanno scoperto che non solo l'universo si espande ma che si espande alla sua frontiera accelerando l'espansione cioè la velocità con cui si espande non è costante ma aumenta sta tuttora aumentando e come abbiamo sentito ieri sera da Barrow c'è stata un'espansione prima graduale regolare addirittura lievemente decelerata poi verso 5 miliardi di anni fa invece è ricominciata un'espansione più accelerata e questo ha a che vedere con la teoria dell'inflazione con discorsi che qui non possiamo fare che preferisco non fare perché sarei imbarazzato a farli davanti a un astrofisico che queste cose le conosce davvero mentre io sono un dilettante ecco questi tre signori hanno rimediato un premio Nobel proprio perché hanno scoperto questa accelerazione dell'universo che attualmente è spiegata con l'energia scura o l'energia oscura scegliete voi l'espressione che vi piace di più scura o oscura come l'hanno fatta questa scoperta beh almeno il concetto ve lo vorrei lasciare perché è interessante vedete esistono queste stelle supernove che sono nient'altro che stelle molto massicce che arrivano alla fine della loro vita e collassano su se stesse una stella come sapete vive bruciando diciamo fondendo nuclei atomici via via più complessi all'inizio fonde protoni quindi nuclei di idrogeno producendo dell'elio poi comincia a fondere nuclei di elio e così via fino a fondere nuclei molto massicci come il nucleo del ferro il ferro appeso atomico 56 credo ce ne sono vari isotopi insomma arrivati al ferro però succede qualche cosa di straordinario mentre tutte le reazioni precedenti sono esoenergetiche cioè producono più energia di quella che assorbono dal ferro in poi le reazioni termonucleari per fondere nuclei più pesanti ancora del ferro sono endoenergetiche cioè assorbono energie anziché emetterne il bilancio è passivo il bilancio energetico di queste fusioni termonucleari ulteriori è passivo nel momento in cui la stella raggiunge l'età del ferro potremmo chiamarla con un gioco di parole quando la stella raggiunge l'età del ferro collassa perché l'energia che produce con le sue reazioni non sorregge più il peso della stella non lo tiene più in equilibrio e allora la stella crolla su se stessa nel crollare però c'è anche si produce in questo crollo immediato velocissimo una specie di rimbalzo che è una grande esplosione ve la sto raccontando un po' come la favoletta di Capucetto Rosso ma insomma è solo per darvi un'idea e la stella manda nello spazio anche gran parte della sua materia una parte collassa in un nucleo molto denso una parte si disperde nello spazio in questa fase di liberazione di energia inimmaginabile 100 miliardi la stella diventa luminosa come 100 miliardi di stelle si raggiungono condizioni di temperature di pressione in cui possono essere sintetizzati anche atomi molto pesanti guardate per sposarsi è necessario che qualche stella sia esplosa da qualche parte perché l'oro l'oro può essere sintetizzato soltanto in una esplosione stellare quindi vedete che hanno la loro importanza dopo tutto queste supernove ma ne esistono due tipi più tipi insomma ma diciamo due principali quello che ci interessa è che questi signori che voi vedete qua per il Matter Schmidt e Rice hanno studiato sono un tipo particolare di supernova sono delle supernove che stanno in sistemi doppi in cui una stella risucchia materia all'altra stella sono stelle vampire che risucchiano materiale all'altra stella quando la stella che risucchia il materiale raggiunge una massa eccessiva si ha l'esplosione di questa stella e dato che questa massa è una massa critica che si può calcolare molto bene noi sappiamo che quelle stelle quelle supernove hanno una data luminosità con buona precisione e quindi possiamo confrontando la luminosità apparente con quella effettiva che viene chiamata assoluta stabilire a che distanza sono quindi sono chiamano così gli astronomi candele standard che ci permettono di trovare le vere distanze degli oggetti più remoti dell'universo le galassie più lontane vengono localizzate come distanza grazie a queste supernove ed è il lavoro che hanno fatto questi tre questi tre astrofisici io poi vorrei ancora dirvi due o tre cose ma più che altro curiose è molto di moda anche una teoria del multiverso cioè che esistono molti universi molto diversificati anche di questo ve l'ha fatto vedere quegli universi a bolle che vi ho fatto vedere ieri sera Barrow esiste una teoria delle stringhe che poi si è composta con altre teorie la supergravità eccetera ed è la M-theory che prevede qualcosa come 10 alla 500 universi 10 alla 500 è un numero difficilmente immaginabile pensate che tutte le particelle atomiche che compongono l'universo conosciuto sono 10 alla 82 pensate che sono 10 alla 500 universi ma questo numero è piccolissimo rispetto a quelli che sto per dirvi questo signore è Witten il genio della teoria delle super string un grandissimo fisico matematico c'è la gravità quantistica loop questo è Carlo Rovelli quello dei 120 ordini di grandezza e poi vi ho dato questo concetto fondamentale che sia la materia sia l'energia sono granulari questi sono i punti di partenza e poi c'è ancora l'ipotesi che l'universo sia ciclico cioè che sia infinito nel tempo ma non nello spazio si espande poi si ricontrae si espande e si ricontrae vi do tutte le ipotesi possibili per darvi un'idea di questo ignoto e questo signore che a me è molto simpatico che ha molto successo con le ragazze è carino vero? vi piace ha molto successo con le ragazze è come una star ma è una star della matematica questo Max Tegmark che è uno svedese nonostante questi capelli credo che sia svedese adesso spero di non darvi un'informazione sbagliata ha una sua teoria lui è essenzialmente un matematico e in matematica gli universi possibili sono un numero veramente illimitato perché potete immaginare universi a infinite dimensioni tempo a più dimensioni e così via insomma i modelli di universo matematicamente possibili sono un numero sterminato probabilmente infinito come infinita è la serie dei numeri infinita è la matematica nei suoi orizzonti bene Max Tegmark è convinto che tutto ciò che è possibile matematicamente quindi razionalmente possa e debba essere realizzato fisicamente noi sappiamo che la matematica corrisponde bene al mondo fisico la legge di gravità rappresenta bene come cadono i corpi e allora lui inferisce che tutto quello che è matematicamente vero quindi che è matematicamente vero all'interno dei nostri assiomi matematici all'interno della nostra razionalità deve essere anche fisicamente realizzabile e probabilmente fisicamente realizzato cioè devono esistere tutti questi pressoché infiniti universi che la matematica rende possibili e allora ha calcolato quanti potrebbero essere e il numero è questo questo è veramente il numero più grande nel quale io mi sia imbattuto quello dei granelli di sabbia che riempiono l'universo di Archimede fa ridere a paragone e anche figuriamoci i 10 alla 500 universi della teoria delle stringhe fa ridere per lui sono 10 elevato a 10 elevato alla sedicesima provate a immaginare cioè non potete provare a immaginare insomma ma chi ha un po' di mente matematica sa che è qualche cosa di inconcepibile e allora in un numero di universi così grande un cenno l'ha fatto Giorello ieri sera in un numero di universi così grande tutte le possibilità si possono realizzare anche contemporaneamente quindi ci può essere un altro universo nel quale c'è una città che si chiama Foligno nella quale c'è un palazzo come Palazzo Trinci nel quale c'è una sala come la Sala Rossa nel quale ci sono le stesse persone che ci sono qui con uno che sta parlando loro che è uguale a me ma non siamo noi e non è Foligno e un'altra è una coppia di noi stessi perché l'unico modo per vincere la lotteria è avere infiniti tentativi di estrazione allora si vince sicuramente in una concezione in cui gli universi sono infiniti si vince sempre la lotteria cioè c'è sempre Palazzo Trinci c'è sempre una Foligno c'è sempre un Palazzo Trinci con queste persone che stanno ascoltando uno sciagurato che sta parlando e allora si può calcolare a che distanza minima ce ne saranno moltissime copie di Palazzo Trinci in un'infinità di universi ci sono moltissimi Palazzi Trinci con queste persone dentro e Tegmark ha calcolato dove è il più vicino perché ce ne saranno molti ma il primo che incontriamo a che distanza è e lui l'ha calcolato allora i Nordri Gemelli i più vicini sono a 10 elevato a 10 alla 118 metri in metri 10 alla 10 alla 118 se voi ricordate quello che vi ho detto prima cioè che l'intero universo è 10 alla 26 metri 10 alla 26 metri è l'intero universo pensate cosa è 10 elevato alla 10 alla 118 cioè siamo incomparabilmente al di là dei confini dell'universo quindi diciamo che la copia le nostre Gemelle Kessler sono tutte e due qui sulla Terra per un caso molto fortunato siamo fortunati anche noi ad averle avute noi che eravamo ragazzi negli anni 60 ma la nostra copia probabilmente non c'è in questo universo c'è in qualche altro universo e questa è la cosa bella che non potremo mai verificarlo e qui chiudo con richiamandomi all'inizio perché poi quello che volevo raccontarvi era questo in realtà il messaggio era questo qui che serve una ignoranza quella che io ho chiamato ignoranza informata che non è soltanto il sapere di non sapere vorrei farvi riflettere sul fatto che l'ignoranza non segue segue la conoscenza non è il contrario cioè noi ogni volta che impariamo una cosa nuova diventiamo un po' più ignoranti su quello che ancora non sappiamo vorrei dirvi che le domande sono sempre più grandi più onnicomprensive che le risposte di fatti una domanda può avere molte risposte di questo ho trovato un esempio bellissimo in Feynman ma non so se ho il tempo il tempo di dirvelo una volta hanno domandato a Feynman perché le calamite si attraggono con i poli opposti si respingono che sanno lo stesso polo e lui ha detto eh ma in che senso cioè si è accorto in quel momento di non avere la risposta Feynman pensate forse la mente più geniale del novecento dopo Einstein si è accorto e allora ha cominciato a dire ma se io le dico non posso rispondere ha detto ma se io le dico la frase hanno portato mia zia all'ospedale mia zia è caduta l'hanno portata all'ospedale lei che cosa capisce e l'altro dice ma non so avrà avuto un incidente se era stata male dice ecco benissimo allora immagini di essere un extraterrestre dire a un extraterrestre hanno portato mia zia all'ospedale che cosa vuol dire per l'estraterrestre nulla perché non sa cos'è una zia non sa cos'è un ospedale non capisce perché uno deve essere portato all'ospedale perché non c'è andato con i mezzi suoi semplicemente è impossibile allora rispondere che cos'è veramente per un fisico che sappia la fisica come la sapeva Fai ma rispondere perché due calamite si attraggono è come per rispondere a un extraterrestre come dire a un extraterrestre mia zia l'hanno portata all'ospedale perché è caduta e in effetti è così perché si possono dare delle risposte immediate dire beh i poli uguali si attraggono i poli opposti si attraggono i poli uguali si respingono dicono sì ma perché si respingono e poi per la volta uno arriva anche alla domanda ma perché esistono due poli e poi uno può arrivare alla domanda e dice ma si possono separare il polo nord dal polo sud no per ora i monopoli non li abbiamo e perché non li abbiamo non lo sappiamo quindi alla fine ci affacciamo sopra l'ignoto immerso nell'ignorato ecco questo era un po' quello che volevo dire che dentro una domanda ci sono molte risposte alla domanda perché hanno portato tua zia all'ospedale perché è caduta ma perché è caduta perché è scivolata perché è scivolata perché c'era il ghiaccio perché è scivolata sul ghiaccio perché il ghiaccio è una cosa strana è una cosa più molto scivolosa perché è scivolosa perché il ghiaccio è fatto di acqua ma perché diventa scivoloso mettendoci il piede sopra perché la pressione lo fonde un poco lo fonde un poco e quindi si crea uno sottilissimo strato d'acqua sul quale si scivola perché lo fonde un poco perché la molecola d'acqua è strana è l'unica molecola l'acqua quella dell'acqua che fa sì che passando dallo stato liquido allo stato solito l'acqua si dilate anziché restringersi perché avviene questo perché la molecola d'acqua è fatta in un modo strano è fatta con due atomi di idrogeno attaccate ad un atomo di ossigeno che formano un angolo di 104 gradi perché la molecola è fatta così? beh, non lo sappiamo perché è fatta così però ha una certa sua polarità la polarità di questa molecola è quella che fa sì che l'acqua sia un magnifico solvente e essendo polare si attacca e si aggrega comodamente ad altre molecole di tipo organico quindi l'acqua è il principale liquido intracellulare e dentro le cellule e noi siamo vivi perché c'è questo liquido che reagisce molto agilmente con tutte le altre molecole biologiche ma allora perché tua zia è caduta e andata all'ospedale? questo era il ragionamento che faceva Feynman e la scienza progredisce grazie alla crescita dell'ignoranza quindi andiamo via tutti fiduciosi più ignoranti siamo meglio è e questo è il viatico finale è un proverbio che Feyre sta incita è molto difficile trovare un gatto nero in una stanza buia soprattutto se non c'è nessun gatto e qualche volta il gatto non c'è grazie grazie